Bene, siamo arrivati alla seconda giornata, al secondo appuntamento di questo memoir, come dicono quelli che parlano bene, io direi di questo ricordo di un amico, di Giuseppe D'Agata, un grande scrittore, un grande sceneggiatore e un grande amante dell'arte. Bene, questo incontro è stato in qualche modo favorito e organizzato dall'Università Primo Levi e quindi lascerei direttamente la parola al direttore tecnico-scientifico della Primo Levi, l'amico, oltre che grande ingegno e grande intellettuale, Rinaldo Falcioni. Prego. Bene, ringrazio il vecchio amico e sodale Eros Drusiani per l'opportunità che mi dà, personalmente, e come direttore della Primo Levi, di partecipare a questo incontro commemorativo, rievocativo e illustrativo della figura di un personaggio, un intellettuale del nostro Novecento, nato e vissuto, nato a Bologna, vissuto in tutta Italia e che ha finito i suoi giorni proprio a Bologna nel 2011, Giuseppe D'Agata, Pippo D'Agata. Pippo D'Agata verrà illustrato e celebrato con una serie di iniziative e a me tocca, diciamo, il compito di ringraziare a nome della Primo Levi dell'opportunità che ci viene data e di fare qualche riflessione sul rapporto fra la missione di un'istituzione, di un'associazione come la Primo Levi e il portato, l'eredità di una figura come Pippo D'Agata. Come Pippo D'Agata. Quindi l'università, l'università Primo Levi, è un'istituzione culturale che ha 30 anni di vita e da 30 anni a Bologna svolge una missione che è quella dell'educazione permanente degli adulti e della promozione sociale e culturale della terza età. Ci tengo molto a sottolineare come negli ultimi anni il titolo della Primo Levi si è passato da università della terza età a università per l'educazione permanente degli adulti, aderendo quindi a una concezione di stampo, diciamo, nordico, anglosassone, della cosiddetta long life learning o long life education che obbedisce appunto alla convinzione che, secondo la quale, la istruzione degli adulti deve essere appunto permanente. L'istruzione degli individui maturi, consapevoli, adulti, non termina con il corso degli studi, con la maturità, con la laurea, con quello che è, ma è opportuno che proceda per il resto della vita dell'individuo. Questo perché si radica nella convinzione che la maturazione del sapere individuale sia un portato, un valore aggiunto per la società nel corso di tutta la vita della persona e costituisca quindi sia come sapere accumulato che come sapere messo in pratica, leggi, partecipazione civica, un grosso valore aggiunto per la società nel suo complesso. E quindi con convinzione che io aderisco alla celebrazione di questo autore, proprio perché mi sembra che nella sua biografia, nelle cose di cui si è occupato, che ha scritto, che ha diretto, che ha sceneggiato, eccetera, eccetera, e nella sua partecipazione concreta, pratica alla vita civile, ci sia quindi un riflesso speculare di questa missione. E' un riflesso speculare che, per dirla tutta, io vedo riflesso in un grande secolo della nostra storia europea, che poi è il secolo dell'illuminismo, per il quale, per le grandi menti dell'illuminismo, proprio l'educazione permanente era il valore fondamentale di una nuova società. Certo, allora si trattava di insegnare a leggere e scrivere. Oggi non è più solo così, si tratta di mantenere viva l'intelligenza e di apprendere nuove cose, ma soprattutto di tenere presente l'altra indicazione dell'illuminismo, che è quella della messa in pratica di questi valori. Infatti gli illuministi fecero questo grande lavoro di accumulazione con l'enciclopedia, però parteciparono attivamente alla vita pubblica, sotto tanti aspetti, dal punto di vista giudiziario, dal punto di vista legislativo, dal punto di vista culturale critico, e animarono quindi una tensione verso la trasformazione degli esseri umani in esseri umani adulti, in esseri umani degni di vivere in una società completa. Per quanto riguarda appunto Pippo D'Agata, questo è piuttosto evidente. Cioè la figura è talmente ricca, talmente ricca di cose, di iniziative, di sostanzialmente capacità di apprendere, di trasformare i propri studi da una disciplina all'altra, di metterli in pratica diventando critico, diventando appunto, come ha detto, scenografo, partecipando al sindacato nazionale scrittori. Quindi un uomo con le mani in pasta, oltre che con la testa sui libri. Quindi tutto meno che un individuo, un intellettuale, che vive nella sua torre d'avorio, ma un intellettuale che è ricco intellettuale e che mette in pratica questa sua ricchezza. La trasforma e la mette a servizio della comunità. Questo, a dire il vero, poi fin dall'inizio, fin da Pippo D'Agata Giovinetto, quando già primo all'inizio dei suoi studi musicali, eccetera, lui partecipò alla guerra partigiana. Il giovane Pippo D'Agata partecipa alla guerra partigiana, 17enne, in una brigata Matteotti e, tra l'altro, uno dei suoi primi, dei suoi volumi, ne ha scritto più di uno, ecco, diciamo, forse quello più noto, è I ragazzi del coprifuoco. I ragazzi del coprifuoco dedicato appunto all'esperienza partigiana. E c'è un po' di ironia a leggere questo titolo oggi, I ragazzi del coprifuoco, perché, mi permetto di dirlo, noi oggi viviamo in una situazione in cui il coprifuoco è tornato in auge per motivi che tutti noi sappiamo. Quindi c'è questa assonanza ironica. Pippo D'Agata, dunque, è stato partigiano e scrittore, musicista, batterista, critico d'arte e pittore. Poi si è laureato in medicina, ha fatto il medico come professione privata e poi pubblica, è diventato medico scolastico, è diventato sceneggiatore, sindacalista nel sindacato nazionale degli scrittori. È diventato dirigente RAI, è diventato critico d'arte, è diventato critico d'arte ed è diventato critico musicale per emittenti locali, eccetera. Una personalità, quindi, che si sposa bene con, da un lato, la missione della Primo Levi. Io, francamente, mi sentirei di dire, sì, questo è quello a cui noi tendiamo, naturalmente tendiamo, perché come Primo Levi abbiamo un riscontro importante nella cittadinanza e sono tanti, sono migliaia e migliaia le persone di ambi i sessi, soprattutto donne, per tre quarti almeno, che frequentano i corsi della Primo Levi seguendo un arco di offerta formativa che praticamente copre, oso dire, tutto lo scibile. Perché si va dalla critica d'arte, si va, naturalmente, dalla storia, dalla storia, dalla medicina, ai laboratori linguistici, ai laboratori artistici veri e propri, cioè si impara a dipingere, a fare scultura, ci sono corsi di yoga, ci sono corsi di perfezionamento, sostanzialmente più di 300 corsi all'anno in materie che coprono praticamente tutto lo scibile umano. Quindi, in questo senso, credo che noi siamo una cassa di risonanza nei fatti del vecchio ideale enciclopedista illuminista. Per consolidare questa convinzione, per rafforzarla e per suggellarla, prima di dare la parola a chi illustrerà meglio un aspetto relativo all'ambiente, all'ambiente delle avanguardie artistiche di cui si occupò Pipo D'Agata, eccetera, vorrei leggere un breve passo proprio di definizione dell'illuminismo dato da Immanuel Kant nel 1784. È una definizione che riassume praticamente quello che io ho detto riguardo al diventare adulti, all'assumere responsabilità, sia dal lato della preparazione professionale, cognitiva e sapienzale, sia dal lato della partecipazione, cioè dell'assunzione di responsabilità pubblica e privata, il diventare adulti. Nel 1784 Immanuel Kant scrive un breve articolo dal titolo risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo e dice L'illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità è l'incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stesso è questa minorità se la causa di essa non dipende da un difetto di intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e di coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. Sapere aude, abbi il coraggio di serviti della tua propria intelligenza. E questo è il motto dell'illuminismo. E conclude, rincarando la dose. La pigrizzia e la viltà sono le cause per cui tanta parte degli uomini, dopo che la natura li ha da lungo tempo fatti liberi da direzione estranea, rimangono, ciò non di meno, volentieri per l'intera vita minorenni, per cui riesce facile agli altri erigersi a loro tutori. Ed è così comodo, dice Kant, essere minorenni. Ecco, la missione di un individuo come Pippo d'Agata si inserisce, a mio parere, in questa linea dell'illuminismo. E' comodo essere minorenni. Questa constatazione di Kant la dice lunga, su come va la vita, la società. La missione di un individuo come Pippo d'Agata, e modestamente credo appunto come l'Università Primo Levi, fra altre istituzioni, è proprio quello di spronare gli individui, accessare questa comodità pavida, questa comodità ignava, e cercare di superare se stessi, cominciando o riprendendo l'istruzione e ponendo questa istruzione al servizio della loro vita pubblica, civile, assumendo la responsabilità di questo. Come introduzione alla nostra partecipazione, come Primo Levi a questa celebrazione, penso di concludere dando la parola a una delle nostre docenti, la professoressa Carmen Lorenzetti, che abitualmente tiene corsi di critica teatrale, storia dell'arte contemporanea, per i corsisti e le corsisti della Primo Levi. La professoressa Carmen Lorenzetti, che insegna all'Università di Bologna, in Accademia, è specializzata in particolare in uno dei temi che interessò anche Pippo d'Agata, cioè la critica d'arte, delle avanguardie e la critica contemporanea. Quindi con piacere che do la parola a Carmen Lorenzetti per illustrare questi aspetti. Grazie. Un momento solo prima dell'intervento della professoressa, perché dobbiamo sanificare i microfoni, la postazione, perché purtroppo questo maledetto virus ci costringe a cambiare ogni volta il microfono e a sanificare la postazione. Quindi sono dovuto tornare. Ma è già pronta e quindi facciamo partire la dottoressa Lorenzetti. Buonasera a tutti. Grazie al battatore eclettico Eros Drusiani. Grazie per la presentazione anche del direttore della Primo Levi, di Rinaldo Falcioni, che mi hanno chiesto di partecipare a questa presentazione in omaggio a Giuseppe d'Agata. E sono felice di fare una specie di commento a Latere, cercando di fare un percorso per tre decenni, dagli anni Sessanta fino alla fine degli anni Ottanta, dicendo quello che era un po' lo spirito dell'arte di quegli anni e anche un po' un assaggio di quello che io faccio a lezione nell'ambito della Primo Levi, uno riassunto del riassunto, perché con così poco tempo sarà una cavalcata veloce. Però spero che riusciamo lo stesso ad avere una idea di quelli che erano gli anni e l'arte e la cultura di quegli anni. Quegli anni che erano stati, soprattutto gli anni Sessanta, degli anni focosi, passionali, in cui la gente aveva voglia di godere, di piacere, perché era nel pieno del boom economico e si guardava con ottimismo al futuro e c'era una voglia di far entrare in maniera totale nell'arte la realtà, il comportamento, l'azione e quindi l'arte degli anni Sessanta è quella chiamata delle neo-avanguardie, che sono una specie di richiamo delle avanguardie d'inizio del Novecento, ma con una nuova dotazione di pensiero, di linguaggio. E proprio il linguaggio è un po' all'origine di tanti pensieri degli anni Sessanta, perché il linguaggio diventa qualcosa su cui riflettere, su cui sperimentare, su cui analizzare. Basti pensare all'un nouvelle vague nel cinema che si ha tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Sessanta. Ma ora, bando alle cange, cerchiamo di andare a tuffarci in quegli anni, che sono degli anni Sessanta ed iniziamo con la nostra carellata che illustrerò con delle immagini che spero siano abbastanza un buon commento per quelli che sono stati anche gli anni di fuoco della produzione del nostro protagonista. Allora, inizio con l'internazionale situazionista e con Guy Debord, che negli anni Sessanta scrive La Società dello Spettacolo, che è una critica feroce dei tempi della televisione. Da una parte la società amava la televisione, si tuffava nella televisione, comprava in tutte le case, c'era la televisione, e dall'altra cominciano ad esserci le prime critiche, perché tutto, diceva Guy Debord, diventava schermo scintillante e il nuovo potere della televisione veniva così sottolineato. Guy Debord poi è stato anche un compagno di strada dei momenti di fuoco del 68, della rivoluzione giovanile studentesca e operaia. E questo si può capire perché Guy Debord con Asger John, che hanno fondato l'internazionale situazionista, vogliono recuperare tutto ciò che è in questi tempi abbastanza attuale, vogliono recuperare attraverso il concetto della deriva la città, le passeggiate, appropriarsi degli spazi, appropriarsi dei propri tempi e lasciarsi appunto come in una deriva andare nella città, declinare in maniera propria e non commerciale e non pubblicitaria e non di desiderio imposto la propria vita. Constant all'interno di questa compagine dell'internazionale situazionista è un architetto visionario, assolutamente forte per quanto riguarda affermazioni di un'architettura fatta dalla gente, per la gente, in cui l'architetto doveva parlare con la società e fa addirittura un progetto per gli zingari e quindi con un'attenzione verso una società, diciamo, emarginata. È il tempo anche di una contestazione nei confronti della pittura come merce, della pittura come unicum e originale e Pino Gallizio italiano provocatoriamente parla di una pittura che si può vendere a rotoli. Questo è un rotolo fatto da una macchinina automatica e questa macchinina faceva come... cioè non c'era la mano dell'artista, quindi è una pittura automatica e questa pittura si vendeva a rotoli, pensate, quindi niente di più lontano dalla fare la mano magica dell'artista. E ancora Asger John, che abbiamo visto prima, addirittura contesta l'arte che c'era prima, l'arte informale, comprando al mercatino delle pulci quadretti e poi facendoci degli scarabocchi come se fossero una pittura informale, contestando questa soggettività della pittura degli anni 50. Oppure in questo caso aveva comprato un'ateletta con un ritrattino dell'Ottocento, ci aveva messo i baffetti da rivoluzionaria e la fanciulla diventa una specie di rivoluzionaria, un tipetto un po' duro. Questi sono gli anni anche del New Data, tra fine anni 50 e inizio degli anni 60 e si vuole riportare la realtà nell'arte. Addirittura Robert Rauschenberg prende un letto vero, lo mette in verticale e ci spruzza della pittura. Quindi la pittura crea una specie di duello con la realtà, con il letto dove l'artista dormiva. Jasper Jones invece prende i luoghi del simbolo americano, non so, dei bar, delle caffetterie americane, dove la gente, come in tanti film che noi abbiamo visto, giocava con le freccette. E la pittura diventa oggetto tridimensionale fatto con un'allusione alla realtà, mediata però appunto dalla pittura, che è una pittura ancora abbastanza densa. Famosissima è la bandiera sempre di Jasper Jones, dove appunto il simbolo americano per eccellenza è alluso e dipinto, quindi è la realtà ma nello stesso tempo è la pittura. E poi si parla per la prima volta in maniera forte della convenzionalità di questo linguaggio, come vi dicevo prima per la Nouvelle Vague. E la pittura, come una specie di televisione, diventa schermo. E sopra ci sono scritte anche delle parole, ci sono delle tracce, e tutto è convenzionale, perché c'è scritto rosso, giallo e blu, ma qui è tutto grigio. E quindi si parla ancora di linguaggio. Fino ai monocromi, come Frank Stella, che inizia quella che sarà la pittura e la scultura minimalista, che avranno un grande spazio nell'ambito degli anni Sessanta. Lo spazialismo, veniamo in Italia, e abbiamo Lucio Fontana, che si appropria dello spazio attraverso i suoi neon, è una cosa rivoluzionaria, perché prima di allora non era mai stata protagonista la luce, come in questa maniera, e fa diventare lo spazio questa luce, emotivo, sensibile, tattile, e lo riconfigura. E lo spettatore in questo modo entra in una nuova dimensione, come potremmo dire noi in una specie di terza dimensione, ed è assolutamente il primo al mondo che pensa allo spazio in maniera tattile e assolutamente esistenziale. Noi lo conosciamo per i famosi buchi, perché c'è una dialettica continua tra la bidimensionalità e la tridimensionalità, quindi un rapporto appunto di contesa tra spazio bidimensionale e tridimensionale. Manzoni, che possiamo dire esce da una costola di Lucio Fontana, ragiona sul monocromo, ma lo fa in qualche modo con i dati della realtà o i dati della pittura. In questo caso questo monocromo arriccia la tela ed è solamente il supporto protagonista, arricciato come se fosse solcato da delle onde. Oppure il monocromo è dato da dei cotton fioc, come in questo caso, oppure da delle fibre di vetro, come in quest'altro. Non è più la pittura, ma sono dati di realtà, dati della quotidianità, che entrano e giocano con degli stilemi della pittura che sono appunto il monocromo. e ancora di più entra la realtà nella pittura, nella scultura di Piero Manzoni, se così la possiamo ancora chiamare, attraverso la mediazione del corpo. Il corpo è uno dei grandi protagonisti degli anni Sessanta fino ad oggi perché il corpo dell'artista nel suo respiro diventa il protagonista. Infatti qui abbiamo Corpo d'aria che è un palloncino gonfiato con l'aria del fiato di Piero Manzoni ed è il fiato che diventa protagonista. Cosa c'è di più grande della vita nella nostra esistenza? Oppure questa provocatoria è la merda d'artista, addirittura fino alla fine provocatorio. È sempre un prodotto dell'artista, è un affermarsi che o non si disegnano più modelle, le modelle vengono o semplicemente firmate da Manzoni. È la verità la vera opera d'arte, la realtà, il corpo e fino allo zoccolo del mondo che messo la rovescia sostiene tutto il mondo. Quindi non solo il corpo, non solo la quotidianità, non solo il respiro, ma tutto il mondo diventa opera d'arte. Tant'è che la base è una base magica, ci si può salire sopra come fa Vincenzo Agnetti e in quel momento diventa opera d'arte. E poi la fotografia degli anni 60. Vediamo chi erano i protagonisti. Richard Avedon, fotografo elegantissimo, che fotografa Merlin Monroe, quindi le star, Sophia Loren, Allen Ginsberg, il poeta della Big Generation. e Avedon fa un libro di fotografia nel 59 che è introdotto dal grande Truman Capote. Pasolini, protagonista, protagonista dall'americano Avedon e Irving Poen con Truman Capote, grandissimo scrittore, che viene ritratto in questa posa inconsueta. naturalmente non poteva mancare il simbolo del momento aureo dell'economia, società e politica americana oppure uno strambo, Salvador Dalì, sempre performer di se stesso. E c'è anche un altro aspetto che poco viene sottolineato, che è la, diciamo, l'altra parte del mondo, quella che di solito non viene presentata. Roy De Carava presenta la vita afroamericana di una famiglia e la chiama la dolce carta moschicida della vita. Anche loro, diciamo, gli afroamericani diventano e vogliono diventare protagonisti nella strada, nella famiglia, nella casa, fino a rappresentare non solo le star, ma con Lisette Model gli ultimi, cioè gli ubriaconi fuori da un bar, oppure Robert Frank che nel suo incredibile libro The Americans e con l'introduzione di Jack Kerouac, l'autore dell'On the Road, rappresenta l'America proprio come se fosse, fa un viaggio negli Stati Uniti e presenta assolutamente quella che era l'America degli anni tra il 50 e il 60. America positiva, ma America anche che lotta per, sotto il simbolo della bandiera, per la propria affermazione che usa i media e ci sono bianchi e neri in questi in questi autobus che fa vedere le caffetterie con il cibo tipico, le motociclette che naturalmente sono il simbolo del rombare e attraversare i grandi territori dell'America, oppure il jukebox, un qualcosa di cui probabilmente i giovani non sanno neanche l'esistenza, ma che invece era il simbolo dell'America che gioiva, ballava, sentiva le canzoni, sentiva i Beatles o naturalmente tanti altri protagonisti della canzone degli anni 60. E c'è anche la rappresentazione del diverso come Diana Arbus che rappresenta queste gemelle conturbanti e perturbanti o i gay, i travestiti, la comunità LGBT negli anni 60. Sono gli anni dei diritti civili, sono gli anni in cui gli artisti rappresentano con grande verità questa società in via ribollente di trasformazione. E poi c'erano i nuovi realisti che facevano delle macchine inutili che si autodistruggevano come Tinghe Li oppure Cristo e Jean-Claude. Cristo e Jean-Claude sono molto conosciuti perché impacchettano, gli hanno impacchettato monumenti fino alle montagne rocciose incredibili ma allora negli anni 60 si usciva dalle gallerie e si occupavano le strade, i negozi, eccetera. Quindi qui con i barili di petrolio e quindi c'era contestazione occupano una strada di Parigi. Oppure Daniel Sperry parla delle cene quindi i resti delle cene e dei pranzi addirittura con i mozziconi delle sigarette viene presentato incollato in una tavola che simula una tavola da pranzo e viene messa in verticale con la sedia su cui sussiste il resto del cibo. E tra questi c'era anche Yves Klein che fa questo finto volo che è noto per aver fatto questo International Blue Klein ed è un artista con cui nasce come con Piero Manzoni erano della stessa età e tutti e due moriranno a 30 anni nasce l'arte concettuale in Europa e anche lui come Piero Manzoni fa le antropometrie in una performance le modelle andavano nude andavano ad appoggiarsi su uno strato blu e poi la loro impronta rimaneva vedete queste strane figure sono le impronte dei corpi delle modelle non si dipinge più con la mano è importante l'impronta e in questo c'è un nuovo linguaggio dell'arte e poi c'è la pop art nota a tutti con le sue bottigliette di coca cola di Andy Warhol che prende in prestito il linguaggio perché c'era un gran rimescolamento dei linguaggi prende in prestito la serigrafia e fa una pittura che non è pittura che è riproduzione e infatti Andy Warhol diceva io voglio essere una macchina voleva rappresentare come se fosse un semplice filtro la società ciò che la gente voleva la coca cola le Campbell soup dei supermercati e l'innamoramento per gli idoli come Merlin Monroe ma nello stesso tempo anche quello che avveniva nei tabloidi nei giornali nei telegiornali quindi qui c'è la sedia elettrica che viene in maniera così iterata ripetuta in vari in vari riquadri che ripetono in maniera ossessiva e compulsiva la stessa immagine di morte lucida e distaccata oppure c'era Lichtenstein tra i pop che rappresentava i fumetti i fumetti per adulti come in questo caso con una tecnica molto raffinata oppure invece che i fumetti c'erano proprio i cartelloni pubblicitari con Rosenkist o Vesselman che rappresentava un interno dove fa vedere la Coca-Cola la birra e nello stesso tempo un Mondrian e i nudi con questo fare da cartellonistica o George Siegel che in maniera conturbante fa i calchi delle persone tutti in bianco e il cinema era un grande protagonista di quegli anni viene rappresentato con questa specie di tableau vivant e poi abbiamo gli italiani gli italiani anche loro prendono marchi oggetti che potevano ritrovare nella vita di tutti i giorni nei giornali eccetera ma lo fanno con un fare più pittorico meno pulito degli americani e quello che diceva Tano Festa sì anche noi prendiamo della nostra realtà ma quello che noi abbiamo come realtà sono i musei più che i grandi magazzini e i supermercati e così rappresenta la grande Odalisco oppure Michelangelo o Franco Angeli che rappresenta la lupa questa era la nostra pop realtà e poi Concetto Pozzati che è anche ospite della rivista L'Orto di Dagata è una diciamo nota bolognese oppure Pino Pascali che è stata la pop e l'arte povera l'happening entrare nella realtà significava anche rendere protagonisti o gli attori che compievano delle azioni oppure anche gli spettatori che venivano chiamati a compiere delle azioni vedete qui in questa parte dovevano seguire delle istruzioni come in questo caso gli spettatori devono attraversare queste copertoni messi in un cortile e quindi si produceva esperienza si produceva vita e gli spettatori per la prima volta negli anni 60 diventano anche loro protagonisti protagonisti come il junk food di Oldenburg gigantesco come la soft toilet sempre di Oldenburg Fluxus ancora una volta Fluxus attraverso i suoi artisti rende protagoniste i gesti quotidiani della vita di tutti i giorni la musica diventa qualcosa che viene insomma declassata da quello che è il classico Alison Knowles per esempio diventa direttrice di una musica per giornali e Nam June Pyke dice io penso e faccio arte con la mia testa e fa questo zen forehead Kubota in maniera femminista fa una pittura per vagina e poi c'è il situazionismo viennese sempre anni 60 in cui si compivano delle manifestazioni purificatorie come vedete qui con sangue ed animali e il minimalismo il minimalismo era l'azzeramento di tutto ciò che era successo prima per andare nella elementarità dei segni come in questo monumento a Tatlin con i neon e tutto tutto diventava qualcosa che poteva essere percepito fenomenologicamente dallo spettatore e lo spettatore ci camminava intorno quindi diventava protagonista di un'esperienza e con questo pavimento in realtà non c'è più il supporto e ciò è molto importante perché l'opera condivide lo stesso spazio dello spettatore e le forme sono elementari il più semplice possibile democratiche senza una connotazione di gerarchia interna ma seguono una dopo l'altra cioè come andare all'origine del linguaggio dell'arte e alla sua semplificazione così con Sol Luit importante è stato Joseph Beuys negli anni 60 e dice come spiegare la pittura nelle premorte a proposito di Primo Levi Joseph Beuys è stato un grande amante della didattica conversazioni tavole e come spiegare la pittura nelle premorte come dire spieghiamo agli animali e questo è per la purezza dell'America vista come America selvaggia in maniera provocatoria in una performance in cui per la prima volta lui va negli Stati Uniti e poi la rivoluzione siamo noi cioè nel 72 dice che si deve prendere in mano la vita l'arte e la politica ed è il fondatore di una nuova università alternativa e del partito dei verdi in Germania l'arte l'arte povera del tutto italiana invece che dipingere i cavalli sono veri come indiani scunnellis invece che essere aulica la scultura si confronta con gli stracci qualcosa che è povero che è usurato che fa parte della vita di tutti i giorni e penone con la realtà degli alberi Merz con l'idea originaria dell'abitare dell'essere protetto all'originarietà dell'arcaica dell'abitare e boetti con quelle che sono le mappe che lui faceva fare a delle donne afghane quindi con l'arte povera un ritorno all'arcaico all'originarietà alla naturalità e alla rappresentazione quasi primigenia della volontà dell'arte e di carattere anche democratica l'arte concettuale si ragiona su se stessa attraverso quello che il proprio linguaggio iconico oppure verbale attraverso la definizione della sedia come vocabolario con Joseph Kossuth Antiforme si oppone alla rigidità della minimal e il feltro può essere disposto in 20.000 maniere diverse per la sua morbidezza l'artista è protagonista e fa gettare che questi sono i risultati di qualcosa di effimero come appunto il gettare o dell'appendere del quadro che diventa qualcosa di conturbante come in Evanès la land art esce dalle gallerie e fa delle opere immense di centinaia di metri come nella famosa Spare al Getty di Smithson e l'uomo si trova a combattere o a misurarsi con la natura come in questo caso oppure creare un campo di parafulmini dove tutta la natura diventa protagonista i parafulmini su queste su queste appunto istanze naturali postmoderno il postmoderno viene dagli Stati Uniti da questi due architetti che si accorgono che il linguaggio della natura è in qualche modo ridecorato da quello della pubblicità dei segni della città moderna quindi in realtà non c'è più uno spazio naturale ma c'è uno spazio contrassegnato fortemente di cui le città naturalmente sono una specie di cartina di tornasole e quindi tutto diventa può diventare segno può diventare protagonista e l'architettura postmoderna è un'architettura che prende da tutto dal passato dalla natura il proprio codice linguistico in questo caso dai quadri vedete questo resort è un resort con i cigni e delle grandi conchiglie questo ovviamente perché stava sul mare e quindi c'è il figurativo nell'architettura oppure tutto come in un grande pastiche può entrare ed essere utilizzato nell'ambito dell'architettura un arco trionfale un arco architravato e questa è una specie di manifesto piazza d'Italia New Orleans negli Stati Uniti di Charles Mordi quello che è il pastiche postmoderno ma noi abbiamo in Italia anche Alessandro Mendini con questa Proust chair con questi puntini che sembrano da una parte riprende è lo stile 700 dall'altra il puntinismo dell'Ottocento del post-impressionismo quindi c'è un mescolamento di stili Cinzia Ruggeri grande fashion designer fa questo omaggio a Levi Strauss che lo scrittore dei Tristi Tropici aveva fatto un'analisi di quella che erano le civiltà dell'America Latina e qui vediamo delle specie di zigura Maya in questo meraviglioso vestito di Ruggeri la videoarte è importante negli anni 60 e 70 come le nuove tecnologie era il periodo in cui Marshall McLuhan scriveva alla sposa meccanica che non era altro che la televisione e Pike usa il video in maniera assolutamente creativa e con il design con inserti e per lui la televisione è l'opera d'arte del ventesimo secolo Bill Viola è un altro grande videoartista che gioca con il ralenti e con gli elementi base dell'uomo terra acqua ferro e aria e la performance è il piacere Carlin Schneemann in questa specie di grande orgia emite joy da una parte è gioia della carne del 64 anche questo è molto femminista Yoko Ono è un simbolo di resistenza la moglie di John Lennon si fa tagliare dal pubblico il vestito ma resiste non si muove è una statua di sale verrà portata via dalla buon costume durante questa performance Abramovic gioca con la resistenza e qui siamo nella settimana della performance di Bologna a cui probabilmente alcuni di voi hanno assistito dove Abramovic e Olai fanno da porta per chi entrava nella galleria d'arte moderna creando un senso quasi di oltraggio al pudore il Bito a Conci si trasforma in donna con queste conversioni la transavanguardia la conosciamo c'è il ritorno negli anni 80 della pittura della pittura della scultura dell'ambiente dell'ambientazione vedete questa scultura ambiente di Mimmo Paladino e questa idea di ambientare attraverso la pittura proprio tutta una stanza ed infine terminiamo con Jeff Koons e Cicciolina e lui che si autorappresenta lui conosceva benissimo l'arte i suoi codici che cominciano ad essere codici di carattere provocatorio esattamente come nei media nella televisione nello spettacolo e si rappresenta così con un codice da 700 lui e Cicciolina poi la storia finirà male ma lui è uno degli artisti più pagati al mondo fino e qui concludiamo con Adam Mienerst che usa questo codice dello spettacolare e rappresenta la morte attraverso questo squalo in formalina intitolato The Physical la impossibilità fisica di pensare alla morte per qualsiasi essere vivente siamo arrivati agli anni 90 e quindi qui vi lascio con questa cavalcata più che veloce e quasi disperata spero di rivedervi alla Primo Levi grazie alla professoressa Carmen Lorenzetti per questo escurso sull'arte degli anni 50 60 70 fino al 90 che era il periodo poi che interessava tanto Pippo D'Agata e adesso entriamo in un altro argomento sempre che riguarda l'arte oltre che la letteratura perché Giuseppe D'Agata è stato il direttore di una rivista L'Orto che era la nipotina di una rivista che era stata pubblicata negli anni 30 e di questa rivista di cui io facevo parte come redazione c'era un piccolo gruppo di persone che collaborava e oggi abbiamo qui Franco Foschi che oltre a essere un medico che lo accomunava Giuseppe D'Agata il direttore era anche lui redattore nonché animatore di questa rivista e di questa rivista L'Orto Moderno diciamo così ci parlerà adesso a te la parola Franco grazie Ero se comunque tu sei il vero Deus ex machina di queste giornate quindi ti volevo ringraziare per avermi chiamato però è altrettanto vero che ero proprio con te all'inizio di questa buffa un po' stramba avventura che avemmo con Giuseppe e alcuni altri collaboratori amici ai collaboratori che Giuseppe volle riunire per costruire questo gioco serio lo definirei così l'editore Silvio Vecchietti molto versato nel mondo dell'arte e dell'artiquariato produceva riviste del settore molto importante cercò Giuseppe D'Agata non a caso Giuseppe ha lavorato per anni nel mondo dell'arte vorrei ricordare solo due cose fondamentali che riguardano la sua competenza in questo settore e cioè il fatto che per anni fu critico d'arte ufficiale dell'unità quindi con una competenza anche di studioso molto elevata e per una delle sue iniziative più importanti che riguarda una famosissima mostra che venne fatta nel dopoguerra che si chiamava arte e resistenza in Europa che venne presentata con clamore oserei dire in Italia a Bologna e a Torino arte e resistenza che lui personalmente currò assieme ad altri grandi operatori del settore culturale di quegli anni come Trombadori e altri fortissimi conoscitori d'arte facendo da liaison tra la cultura italiana e la cultura russa lui ebbe parecchie possibilità di scambi culturali con la Russia cosa che in quegli anni era piuttosto grazie mille non era di grande facilità coltivare questa relazione con i paesi sovietici bene lui ci volle grazie appunto al supporto tecnico e anche emotivo di Silvio Vecchietti l'editore ci dedicamo alla costruzione di questa splendida oserei dire per cultori del bello permettetemi questa digressione anche un po' verso me stesso perché devo dire che una rivista al giorno d'oggi anche al giorno di allora attorno agli anni 2000 quando cominciamo a farla aveva una lasciava tutti un po' perplessi perché fare una rivista una rivista di arte e letteratura il background viene lontano il milieu culturale ci chiama agli anni 30 del secolo passato quando un parente dello stesso editore Silvio Vecchietti produsse il comediografo Dusi produsse i primi numeri di questa rivista e a Vecchietti è venuta la voglia il desiderio e così lo schiribizzo di provare a ripeterla d'Agata è stato per noi un grande collante perché era quello che in quegli anni dirigeva il presidente dell'associazione scrittori e fu proprio in quella sedelia erano anni un po' più vivaci della tiepidezza culturale attuale per cui l'associazione scrittori era vivace produceva moltissime cose in città e anche a livello televisivo facevamo tante cose per cui fu lì che d'Agata fu all'interno dell'associazione che cercò dei sodali dei collaboratori per dedicarsi a questo impegno l'Orto è stata una rivista mi piace dire di una anarchia ben organizzata di un'allegra anarchia perché ci trovavamo a casa i cinque redattori iniziali ci trovavamo a casa dell'editore vecchietti una bellissima villa sulle colline bolognesi dove prima di tutto si faceva tarallucci e vino e poi in maniera del tutto irregolare ma assolutamente seria e divertente credo che questo e vada messo in corsivo e sottolineato perché si facevano con grande allegria cose molto serie fare una rivista di letteratura e arte comportava un impegno da parte dei redattori e secondo me sono belli gli aneddoti i racconti è inutile farsi un attento discrimine sul valore artistico culturale della rivista ma secondo me è molto importante anche la parte anedottica per cui noi ci mettevamo attorno a questo enorme tavolo con tutta una serie di disegni perché sia Silvio Vecchietti che è un collezionista oltre che un grande conoscitore d'arte che è il professore Frasnedi che faceva parte della redazione appunto dell'arte figurativa portavano tantissimo materiale anche Giuseppe era stato amico di tantissimi autori contemporanei per cui ci si poteva facilmente confrontare sulle immagini che volevamo portare e questo confronto era fantastico devo dire la verità eravamo tutti molto liberi quando dico allegra anarchia nell'agire era veramente un discorso fattuale non solo così teorico infatti ognuno diceva quello che pensava con grande libertà e poteva esserci anche il contrasto con dire beh questo però quest'autore non possiamo lasciarlo fuori dalla rivista ci ha dato un disegno gratis così bello così è e l'altro dice ma com'è bello fa schifo per cui si amplificava il dibattito la discussione in maniera sempre piccante oserei dire non c'è stata una volta nei lunghi anni in cui abbiamo prodotto perché fate un po' di conti due numeri all'anno sono usciti dieci numeri in cui abbiamo prodotto questa rivista non c'è una volta in cui non mi sia divertito come un pazzo arte e letteratura assieme fanno parte di entrambe di il vero la vera base culturale di Giuseppe non ha mai mollato nessuna di queste due passioni assieme alla passione politica perché non a caso è stato redattore e critico d'arte per l'unità e per lunghi anni ha fatto grandi viaggi tra l'Italia e la Russia per tramandare la cultura russa a noi e viceversa io so per esempio che è grazie al suo aiuto che molti autori italiani sono stati tradotti in Russia comunque al di là di questo lui ha sempre voluto mantenere le sue competenze senza rinunciare a niente se una cosa mi piace diceva non vedo perché devo rinunciarci il super specialismo non faceva parte della sua mentalità era un uomo aperto attento poteva avere una qualche sfumatura di illusione in qualcuna delle sue passioni ma non poteva rinunciarci perché era la sua come dicevo prima un'anarchia bene organizzata sta di fatto che nell'orto abbiamo dei disegni di oserei dire la maggior parte dei maestri dei ritenuti maestri del disegno e della grafica di quegli anni ma non solo Silvio Vecchietti come collezionista aveva anche la possibilità essendo poi il proprietario e Deus Ex Machina della rivista di accedere alla sua propria collezione per cui abbiamo pubblicato mi ricordo una volta due disegni di Baudelaire non so chi poteva permettersi cose di questo genere è chiaro una rivista una rivista che ha avuto un suo specifico e che ha mantenuto sempre uguale in tutti i dieci i numeri che l'hanno caratterizzata se possiamo dire ci siamo divertiti un sacco abbiamo chiacchierato un sacco abbiamo bevuto abbiamo mangiato abbiamo ritagliato pezzettini proprio lavorando come degli amanuensi di qualche secolo fa però abbiamo sempre ottenuto dal nostro lavoro il massimo della soddisfazione l'unico forse piccolo rammarico che avevamo già allora con la difficoltà di distribuire la nostra rivista in giro per l'italia e che c'è fosse rimasto un po' come tarlo nel nostro giudizio personale nei confronti di questa rivista e di avere avuto non troppa possibilità di promuoverla produrla in giro per l'italia di farla conoscere perché noi l'abbiamo molto amata e abbiamo molto creduto in questo la parte letteraria secondo me aveva la stessa importanza di quella figurativa perché non possiamo dimenticare che al di là delle collaborazioni abituali che avevano i cinque sei redattori iniziali c'erano anche ospiti importantissimi così come la grafica anche per la parte letteraria ho detto simpatica anarchia perché possiamo pubblicare dopo una lunga conversazione due disegni due bellissimi scritti di Charles Baudelaire e il numero dopo abbiamo pubblicato due tavole inedite di Bonvi ecco secondo me questo piccolo esempio racconta più di mille diapositive fotografie più di mille letture più di mille analisi critiche che si possono fare per un oggetto come questo la dice lunga ecco su che tipo di persone eravamo che cosa cercavamo e soprattutto quanto ci siamo divertiti io di tutto questo devo essere ferocemente grato a Giuseppe D'Agata perché è lui che ci ha individuato quelle cinque sei persone all'interno dell'associazione che potevano secondo lui dare criterio e costruttività al lavoro sulla rivista e poi è quella che me lo ha fatto conoscere approfondire noi dopo abbiamo avuto storie personali e umane grazie all'orto profondissime quindi non solo per me è una rivista dal punto di vista formale e intellettuale culturale di grandissimo livello ma lo è anche dal punto di vista emotivo che poi credo sia anche la parte più importante che l'amico Drusiani ha voluto riservare a me quindi è una questa rivista non si trova è chiaro è rimasto un importante riscontro per tutti noi che l'abbiamo fatta forse per qualche individuo qualche essere umano qualche amante della cultura ma non quella paludata non quella rigida e distaccata ma quella pimpante vivace e al di là di questo posso dire che se ho avuto la fortuna la possibilità e la fortuna di conoscere Giuseppe D'Agata come personaggio di spicco anche se non voglio fare della geografia perché tutti noi sappiamo benissimo anche i difetti che aveva Giuseppe posso dire che grazie all'Orto che è stata una rivista speciale non lo sarà stata per tanti ma per quei pochi che l'hanno apprezzata sicuramente sì me in primis beh a questo punto la seconda giornata è finita ringrazio Franco Foschi per questo ricordo personale di Giuseppe e per questa rivista che ci ha fatto conoscere e divertire e che è ad aprirla oggi ancora ha questo sapore di lasciatemela dire questa parola di anarchia intellettuale e di profuma di libertà e questa è una gran bella cosa ringrazio tutti quelli che hanno permesso questa trasmissione in streaming abbiamo avuto qualche problema forse abbiamo cercato di risolverli come meglio sapevamo e potevamo fare ringrazio quindi ancora il comune di Bologna la fondazione del monte l'università l'università primo Levi e poi un rimando sabato prossimo dall'oratorio San Filippo Neri ci sarà uno spettacolo uno spettacolo sulla vita di Giuseppe Dagata scritto da me e da Franco Foschi che avete appena sentito e credo che valga la pena per conoscere più intimamente chi era questo signore Giuseppe Dagata mi stanno dicendo che devo dire delle altre cose non so sentendo niente ma siamo in diretta dovete perdonarvi dove lo vedete ah giusto se state vedendo questa cosa qui lo sapete già per quelli che invece lo devono lo devono sapere ricordatevi sempre il sito www.ornoteatro ornoteatro.it da lì si clicca e si va automaticamente grazie scusate se ho fatto qualche errore e comunque l'avevo fatto con il cuore ciao Pippo grazie a tutti 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 grazie a tutti